Il palazzo da rompere, da favole al telefono di Gianni Rodari. Una volta a Busto Arsizio la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto. Non parliamo delle suole delle scarpe, dei pantaloni e delle cartelle scolastiche. Rompevano i vetri giocando alla palla, rompevano i piatti a tavola e i bicchieri al bar. E non rompevano i muri solo perché non avevano martelli a disposizione. I genitori non sapevano più che cosa fare e che cosa dire e si rivolsero al sindaco. Mettiamo una multa? propose il sindaco. Grazie tante! esclamarono i genitori. E poi la paghiamo con i cocci. Per fortuna da quelle parti ci sono molti ragionieri. Ce n'è uno ogni tre persone, praticamente, e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni, un vecchio signore che aveva molti nipoti e quindi in fatto di cocci aveva una vasta esperienza. Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio cagionavano fracassando tanta bella e buona roba a quel modo. Risultò una somma spaventevole. Millanta tamanta, quattordici e trentatré! Con la metà di questa somma, dimostrò il ragionier Gamberoni, possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi. Se non guariscono con questo sistema, non guariscono più. La proposta fu accettata. Il palazzo fu costruito in 4,48 e 2,10. Era alto sette piani, aveva 99 stanze, ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile zeppo di stoviglie e soprammobili, senza contare gli specchi e i rubinetti. Il giorno dell'inaugurazione, a tutti i bambini venne consegnato un martello e a un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate. Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per trasmettere lo spettacolo. Chi l'ha visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie assicura che pareva, non sia mai, lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. I bambini passavano di stanza in stanza come l'esercito di Attila e fracassavano a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udivano in tutta la Lombardia e in mezza Svizzera. Bambini alti come la coda di un gatto si erano attaccati ad armadi grossi come incrociatori e li demolirono scrupolosamente fino a lasciare una montagna di trucciolini. Infanti dell'asilo, belli e graziosi nei loro grembiulini rosa e celesti, pestavano diligentemente i servizi da caffè riducendoli in polvere finissima con la quale poi si incipriavano il viso. Alla fine del primo giorno non era rimasto un bicchiere sano. Alla fine del secondo scarseggiavano le sedie. Il terzo giorno i bambini affrontarono i muri, cominciando dall'ultimo piano. Ma quando furono arrivati al quarto, stanchi morti e coperti di polvere come i soldati di Napoleone nel deserto, piantarono baracca e burattini, tornarono a casa barcollando e andarono a letto senza cena. Ormai si erano davvero sfogati e non provavano più gusto a rompere nulla. Di colpo erano diventati delicati e leggeri come farfalle. Ne avreste potuto farli giocare al calcio su un campo di bicchieri di cristallo che non ne avrebbero scheggiato uno solo.